Tu 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 Quali Petali intorno ad una rosa danno forma di colore al fiore profumato, così sono gli sposi del Signore Gesù Cristo che profumano l'aria del Regno Immacolato, costante al sacrificio che hanno praticato, rinunciando al mondo che avevano conosciuto fino all'ultimo in Lui hanno sperato, ricevendo sempre l'aiuto ricercato. Io posto il loro destino rifulgente, il seme dell'eroico suo figlio, pari opportunità posta nelle loro mani perché potesse in loro vivere natura sovrumana. Gli angeli medesimi rimangono astasiati e lodano colui che dalla vita eterna, con amore per amore servono coloro che l'Onnipotente stesso chiama figli suoi. Oh 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 Chi ha sposato Cristo solo per la fede, nati dallo spirito, per lodare in cielo la gloria di colui che regna oltre le stelle. Quali petali intorno ad una rosa danno forma e colore al fiore profumato, così sono gli spazi del Signore Gesù Cristo che profumano l'aria del Regno Immacolato. Oh 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 Grazie.